un saluto a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri oggi parliamo di un saggio che mi piace anche definire romanzo anche se è ovviamente improprio il primo di una nuova collana edita da il mulino mi riferisco a uno scritto da giulio busi uno il battito invisibile pubblicato da il mulino il primo di una nuova collana che si intitola storie di numeri e noi abbiamo il piacere di parlarne con giulio busi esperto di mistica ebraica e di storia rinascimentale benvenuto con noi salve bentrovati è davvero un piacere averla qui con noi perché questo libricino per quanto piccolo è davvero denso di tantissimi spunti su molti aspetti dei numeri ma soprattutto della nostra vita innanzitutto le chiedo come mai ha scelto come primo numero di cui parlare l'uno ma devo essere sincero è la proposta della casa editrice e il mulino mi ha chiesto di apre mi ha dato mi ha offerto l'onore di aprire la collana e un'idea di alessia graziano la direttrice editoriale del mulino che voleva penso da mi ha detto da parecchio tempo aveva questa idea e quindi devo essere sinceramente in tutta sincerità quando mi è stato chiesto ho detto oddio adesso cosa scrive perché perché insomma è un è un numero non numero in un certo senso contiene in sé il tutto è molto sfuggente ha una tradizione filosofica molto forte molto antica e quindi mi hanno messo alla prova ho cercato di fare del mio meglio giudicherà il lettore devo dire il lettore avrà tanti spunti su cui riflettere e andare alla ricerca un po la ricerca che ha animato anche l'inizio di questo libro forse anche l'inizio di questa storia ovvero un quadro misterioso che ha cercato ci vuole raccontare come è nata questa questa storia legata all'uno e in particolare a quel quadro sì quando più o meno avevo intenzione ma non avevo ancora cominciato a scrivere il libro avevo intenzione di farlo mi sono imbattuto casualmente sfogliando un catalogo su questo quadro di george della tour che si chiama i giocatori di dadi che non conoscevo e non so perché ho pensato subito che l'avrei messo nel libro anche se non sapevo esattamente perché e per trovare la ragione diciamo così sono voluta ho voluto andarlo a vedere e nella campagna inglese non posto piuttosto sperduto è l'unico quadro importante questa collezione e quando l'ho finalmente trovato dopo un viaggio un po complicato e ho capito la ragione perché lo stavo cercando in realtà perché ed era un particolare che non si vedeva nelle fotografie che avevo i tre dadi sono lanciati dai giocatori e sono tutti i tre fermi sull'uno è stata una rivelazione colpo di fulmine devo dire è l'inizio anche di un racconto poi è venuto un sogno che che narro dopo avere visto il quadro che insomma rielaborava la visione che mi aveva offerto la tour è cominciata la storia è cominciato il viaggio e in effetti è un po' un'avventura anche il libro fondamentalmente alla ricerca di questo numero così misterioso ma così presente nella nostra storia sì il libro è pensato un po forse come la mia vita per un po' nomadica nel senso che mi muovo molto vivo a berlino tra berlino e l'italia insegno all'està di berlino ho sempre viaggiato moltissimo tranne in questi ultimi due anni in cui però sono riuscito a viaggiare lo stesso e quindi diciamo è un itinerario in parte sono ricordi esperienze che ho vissuto in india esperienze durante la scrittura del libro a maiorca che un'isola che mi piace molto in cui mi ritiro quando posso assieme a mia moglie e così diciamo chi soglie il libro deve anche partire per un per un viaggio anzi per una serie di viaggi assolutamente in questo viaggio c'è qualche cosa che l'ha in particolare colpita di questo numero e delle ricerche collegate a questo numero ma direi che l'uno rappresenta l'unicità per cui dovrebbe essere un punto focale verso cui tendiamo tuttavia mi sembra che ci siano tante strade che portano a questo a questa a questo continente in parte da esplorare tante strade quanto sono le nostre vite quanto sono le nostre esperienze non credo che ci sia una via unica all'uno e ho parlato di filosofia ho parlato di mistico parlato di letteratura e di tradizione indiana e tradizione ebraica che conosco meglio di altre per l'aver studiata a lungo insomma sono ho cercato di fare esperimenti con l'uno ma non solo non solo teorici cioè c'è appunto esperienza vissuta ci sono molti anni ormai passati trascorsi incontri dolori amori io penso è stata un'occasione anche per uscire dalla diciamo così dalla saggio accademico dalla pura tradizione culturale per per avvicinarmi un po di più alla vita vissuta e alla vita narrata perché ci sono parecchie narrazioni assolutamente tra l'altro in alcuni punti del libro si dice se l'uno ha un numero fortunato o sfortunato e lei dice dipende se si riesce a svelare quello che è il segreto che cela quindi i numeri celano dei segreti si diciamo che forse li celiamo noi li c'era la vita e i numeri li raccolgono e li simboleggiano tutto il mistero è quello della nostra vita direi e poi cerchiamo forme di come dei cristalli che contengono che riacchiudono esperienze che ce le possono fare rivivere per cui l'uno ha una tradizione simbolica molto forte così come il 7 come il 3 come altri numeri traizioni che vogliono parlarci di quello che in qualche modo noi stessi viviamo e nell'incontro con gli altri anche questo è molto interessante l'aspetto del numero legato alle tradizioni legato anche a un discorso di di memoria che spesso e volentieri viene dimenticata allora può essere anche un buon modo per riportare alla memoria attraverso il suo simbolismo antichi significati sì 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 io sono appunto studiato per tanti anni la tradizione ebraica che è fatta molto di memoria la memoria è centrale nell'ebraismo in realtà è centrale anche per uno storico sono uno storico senza memoria non riuscirei a fare il mio lavoro ma è centrale anche mi sono accorto nel corso degli anni per quello che sono diventato la consapevolezza di quello che ho vissuto degli errori che ho compiuto formano il mio essere attuale e danno anche la spinta alla mia ricerca futura quello che sto cercando di me stesso al mio modo di rapportarmi con gli altri per cui percorro anche nel libro episodi passati per cercare di capire a che punto sono se sono se sono andato un po più avanti in questa ricerca dell'essenzialità del nocciolo dell'essere se sono ancora al punto di partenza perché può anche succedere e questo lo cerco anche assieme ai lettori cercando di coinvolgerli è specificato nella quarta di copertina insomma l'uno è il più sfuggente e misterioso tra i numeri che cosa intende in questo senso è perché gli altri numeri riguardano la due la molteplicità ed è quello il campo in cui viviamo o almeno ci sembra di vivere nella molteplicità di fronte a me se guardo la finestra ci sono parecchi alberi ci sono sugli alberi ci sono parecchie foglie tante sfumature di colore insomma è plurale il mondo che mi si apre davanti agli occhi il problema è di capire se ci sia un comune denominatore se ci sia un cuore di tutta questa molteplicità che possiamo chiamare uno e per questo misterioso perché qual è il 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 comune denominatore delle foglie dell'albero l'albero stesso ma qual è il comune denominatore di tanti alberi la foresta e di noi uomini in una coppia di un amore qual è il comune denominatore di un amore questo è un po il tema della mia ricerca e il mistero se volete sono tante infatti le domande che ci si pone leggendo il libro che ci si pone ovviamente a se stessi e anche su ciò che ci circonda ma chiedo a lei se ci fosse qualche cosa che potesse restare nel lettore una volta finito di leggere il suo libro che cosa le piacerebbe che fosse la voglia di andare avanti scrivere un altro capitolo da soli diciamo così un capitato aggiungere un capitolo mi è successo anche questi in queste settimane ho fatto qualche incontro di presentazione di discussione di dialogo e mi è capitato di ho avuto l'impressione che qualcuno degli amici che colloquiava con me si fosse messo a scrivere un capitolo che io non avevo non avevo scritto che era il suo capitolo del suo esperimento con l'uno e questa è la cosa più bella quando cominciare un lavoro scrivere un libro che però è aperto che può essere ripensato e può essere anche se volete riscritto è molto interessante questa cosa il concetto anche che il libro sia una sorta di dialogo non solamente una sorta di testamento insomma no spero nel senso non terminale si intende un qualche cosa di fermo nel tempo insomma uno va da un notaio con tutto il rispetto ma non scrive un libro ci mancherebbe insomma però mi piace molto questo aspetto del dialogo ed è un po' l'invito che facciamo anche ai nostri ascoltatori che ci sta seguendo insomma di andare a scoprire non vogliamo svelare troppo ovviamente del libro perché manteniamo il mistero ma comunque un bellissimo libro di giulio busi uno il battito invisibile pubblicato da il mulino e ovviamente seguite anche la collana i prossimi numeri che usciranno un grazie quindi per essere stato con noi per averci parlato del suo libro grazie a voi grazie e dopo aver parlato di un libro un saggio dedicato al numero uno insieme a giulio busi pubblicato dal mulino un libro che parla anche di simbolismo e di magia continuiamo su questa linea in questo caso però con un romanzo un romanzo che si intitola dimora di ruggine pubblicato dalla casa editrice 66 and seconde scritto da cadilla abdallah bajaber l'autrice è un esordiente laureata in giornalismo una scrittrice keniana nata a mombasa di origini hadrami un popolo originario dello yemen ha vinto la prima edizione del gray wolf press africa prize indetto dalla casa editrice inglese gray wolf dal manoscritto premiato è nato dimora di ruggine che appunto il suo primo romanzo ma vediamo nel dettaglio di che cosa parla la protagonista è la giovane aisha vive a mombasa insieme alla nonna e al padre che è un pescatore di origini hadrami quando l'uomo scompare durante una delle temerarie spedizioni aisha salpa su una barca incantata fatta di ossa per provare a rintracciarlo come guida ci sarà con lei hamsa un gatto erudito che è venuto dalla dimora di ruggine appunto il titolo del romanzo e che è in realtà un luogo fiabesco e irraggiungibile mai avvistato dai naviganti durante questo viaggio la ragazza dovrà superare degli spaventosi mostri marini e sopravvivere all'incontro con baba oa papa il sovrano di tutti gli squali prima di riuscire a trarre in salvo il padre e a riprendere la sua vita da dove l'aveva lasciata ma sarà così una volta tornata a casa tutto le sembrerà solamente più bizzarro di prima tra corvi parlanti caproni e altri animali ficcanaso per sottrarsi alle pressioni della nonna che vorrebbe vederla sposata come se dice a una giovane della sua età iscia comincia a pensare che forse l'unica salvezza sia ripartire per mare in cerca della mitica dimora di ruggine ecco questo è un romanzo di formazione inconsueto e straniante ricco di realismo magico pieno di fantasia di avventure episodi stupefacenti e svolte impreviste con una protagonista testarda e indomita che non rinuncia alle tradizioni pur stando fedele ai suoi pensieri e alle sue intenzioni tradotto per 66 and second dall'inglese lo stile risulta asciutto e diretto ricco di descrizioni e immersivo seppur nel suo modo cadenzato di procedere 300 pagine in movimento e allo stesso tempo statiche consigliato quindi agli amanti delle storie senza tempo e a proposito di storie senza tempo è tornato in libreria per la nuova frontiera ammazzate il leone di jorbe i balko in doizia un testo che è diventato un po la parodia per eccellenza della novela del dictator ma che riletto oggi dimostra come humor e disincanto siano strumenti efficacissimi per descrivere la società di qualsiasi tempo ebbene qui ci troviamo nel 1926 ad arepa che è un'isola immaginaria dei caraibi e il presidente della repubblica il maresciallo belan zaran sta per concludere il suo quarto e ultimo mandato almeno così impone la costituzione da lui stesso promulgata ma il vecchio leone non vuole farsi da parte così prima fa assassinare il candidato dell'opposizione poi propone una modifica della carta mobilitando i suoi sostenitori del partito progressista per essere rieletto i ricchi borghesi del partito moderato non ci stanno e per sconfiggerlo richiamano sull'isola pepe kusirat un giovane e ricco don giovanni e lo candidato incontro belan zaran nel frattempo si succedono intrighi per uccidere il dittatore chiaramente ma sullo sfondo stanno le maschere distratte del popolo che crede solo di assistere a un episodio dell'eterno copione mentre invece con la sua assenza è il personaggio decisivo una trama avrete capito un po strampalata una satira a tratti spietata con scene epiche degne del miglior tarantino questi sono gli ingredienti di ammazzate il leone l'autore con questo vivace romanzo esprime tuttavia quella che è una secolare amarezza meridionale nel grottesco rendendolo vivo con un linguaggio secco e sobrio quasi fino alla aridità insomma un libro agile meno di 200 pagine narrato in prima persona che può piacere davvero a tutti perché è in grado di sovrapporre leggerezza a profondità avventura a riflessione il tutto senza mai annoiare consigliato quindi ammazzate il leone scritto da george ibarguenzilsea e pubblicato dalla casa editrice la nuova frontiera e con quest'ultimo consiglio letterario termina anche bookmania di oggi che tornerà però con voi la prossima settimana sempre giovedì alle 16 e 30 e venerdì alle 18 un saluto a tutti da erica zini erica zini presenta bookmania interviste anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero bookmania dove il libro è protagonista grazie a tutti grazie a tutti